ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come mossa azzardata per antonino spinalbese il nuovo video su instagram con luna maris catena un vespaio in rete l'air stylist antonino spinalbese ha ormai archiviato la sua esperienza nel reality per antonomasia a dispetto delle numerose dinamiche innescate durante la sua permanenza nel loft più spiato d'italia in seguito all'iniziale flirt con ginevra lamborghini infatti il fascinoso gf no ha catalizzato le attenzioni di sofia jaele dedonà sentimentalmente e legalmente impegnata con il facoltoso imprenditore bradford beck anche oriana marzoli a sua volta ceduto allo charme del compagno di avventura arrivando a coinvolgerlo in una presunta notte di passione sotto alle lenzuola del loro letto condiviso nonostante le liaisons a favore di telecamera antonino spinalbese ha sempre precisato di serbare un'unica priorità nella vita ovvero il benessere della sua pupilla luna marì nata dal fugace amore con la subrette belen rodriguez in effetti l'air stylist ha abbandonato il programma proprio in virtù di un ricongiungimento con la figlia una volta guadagnata l'uscita dalla famosa porta rossa egli ha cercato di recuperare il tempo perduto in compagnia della piccola documentando i momenti più suggestivi sulla piattaforma instagram un recente video però ha decisamente aizzato gli utenti in rete scopriamo perché antonino spinalbese filma il bagnetto di luna marì esplode il caso sui social padre premuroso e accudente antonino spinalbese non perde occasione per condividere con i followers alcune pillole dei suoi momenti privati con luna marì coinvolgendola di riflesso nella propria notorietà l'air stylist del resto si è riscattato dallo scomodo status di ex fidanzato di proprio grazie alla sua partecipazione al gfv in cui ha potuto far conoscere al pubblico italiano il proprio temperamento e la sua affezione nei confronti della piccola ha però compiuto un passo falso caricando su instagram le immagini di luna marì intenta a godersi un bagnetto sulle note di hotline bling di billy eilish sebbene la nudità della piccola sia coperta dal lato della vasca da bagno molti utenti sono insorti denunciando l'eccessiva esposizione mediatica di quest'ultima in un frangente indubbiamente intimo la reazione della rete al coro di commenti entusiastici si sono aggiunte anche alcune recensioni trans sean un utente ha infatti commentato ma questi poveri bambini neanche quando si lavano possono stare tranquilli un altro ha aggiunto con gravità ma i bambini sui social perché ma cosa avete in questa testa ma volete tutelarle queste creature ma lo capite che state invadendo la loro privacy e che state vendendo la loro immagine senza un consenso peraltro ci sono maniaci e pervertiti ma grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video